Grazie Susanna. Prima di dare la parola al prossimo panel un ringraziamento e un benvenuto a Walter De Benedetto che è qui con noi questa sera. Siamo molto felici di averlo qui. Lo ringraziamo perché sappiamo che per lui muoversi è tutt'altro che facile. Walter rappresenta con il suo agire una delle grandi battaglie di questi anni che è quella per la cannabis terapeutica. È stato accusato di coltivazione ai fini di spaccio. Per fortuna il Tribunale ha deciso di smettere una persecuzione illogica e tragicamente cattiva nei suoi confronti. Lo ringraziamo per essere qui, per la sua testimonianza e per il suo impegno. Ora Marco Perduc e Tania Re che presenteranno il libro È la dose che fa il veleno reality book. Grazie. Mi associo anch'io al saluto a Walter e al ringraziamento perché Walter è venuto in piazza con noi la prima volta ormai abbondanti tre anni fa quando abbiamo organizzato una manifestazione davanti alla Camera dei Deputati perché volevamo consegnare al Presidente della Camera 25.000 firme su un appello che chiedeva a deputate e deputati di discutere la proposta di legge di iniziativa popolare per la legalizzazione della cannabis e malgrado, come diceva Leonardo, Walter fosse a quel punto ancora non proprio diventato il simbolo a livello nazionale invece della lotta per ottenere finalmente i prodotti per un piano terapeutico concordato con il proprio medico, niente di illegale, cose previste dalla legge dal 2006, scrisse una lettera anche lui di sostegno a tutto il governo e anche al Parlamento in cui diceva anche se il mio motivo di lotta o di richiesta personale è sulla cannabis terapeutica io comunque sostengo anche le altre iniziative per la legalizzazione e quindi grazie a lui non soltanto molti altri malati si sono uniti in questa richiesta ma grazie al suo esempio e partecipazione perché prese anche all'epoca un'ambulanza e da Arezzo ci raggiunse a Montecitorio e rimase tutta la durata della manifestazione che come vedete comporta grande impegno perché poi ci saranno sicuramente difficoltà e dolori ma io non ho mai sentito Walter lamentarsi di queste sue partecipazioni alle nostre attività pubbliche quindi un ulteriore ringraziamento da parte di tutti noi e ci fa molto piacere che domani tu interverrai alla conferenza e speriamo che tu canti tutte le musiche che è necessario cantare davanti a quelli che come ricordava Franco Corleone poco fa sono rimasti agli hit degli anni 50-60 e non sono entrati ancora nel terzo millennio prima di iniziare con la presentazione di questo libro la cui copertina campeggia alle nostre spalle volevo dire che Corleone, caro Corleone, secondo te è più facile trovare un tabaccaio a Catania alle due che ti convende le Celtic o trovare un tabaccaio che ti vende i Toscani a Niamey che come tutti noi sappiamo è la capitale del Niger a me è successa la seconda e però purtroppo Pannella ha dovuto andare avanti con le sigarette che aveva in tasca fino a quando non siamo arrivati all'aeroporto di Algeri dove comunque non c'erano i sigari ma ha fatto ulteriore riferimento di sigarette e questo è probabilmente l'ultimo viaggio che ha fatto Pannella in Africa per promuovere l'abolizione della pena di morte detto questo io sono Marco Perduca per l'associazione Luca Coscioni che ordino tutto ciò che ha a che fare con le droghe Tania Re, anche lei è parte del consiglio generale dell'associazione Luca Coscioni ma è una ricercatrice, tra l'altro ha fondato, in che anno l'hai fondata? la cattedra nel 2013 salute antropologia biomedica e sistemi di cura all'Università di Genova quindi gioca quasi in casa e comunque è una delle maggiori esperte in Italia di tutto ciò che ha a che fare con l'antropologia o l'incrocio tra l'antropologia etnobotanica e dopo di questo ci parlerà e Guido Long che non è con noi perché poco prima l'avvio della pubblicazione di questo libro che grazie al Covid ha preso 24 mesi dei tre necessari purtroppo era tornato a studiare e oggi lavora l'organizzazione per la cooperazione e sicurezza in Europa a Vienna e abbiamo voluto raccogliere gli interventi che sono stati presentati a due incontri internazionali che l'associazione Luca Coscioni ha organizzato nel 2018 al Parlamento Europeo in una sessione del congresso mondiale per la libertà di ricerca scientifica e alla vigilia di un congresso di Milano alla Università Statale che avevano come tema la ricerca sugli psichedelici che è una delle varie questioni ancora una volta regolamentate dalle tre convenzioni delle Nazioni Unite che raramente entrano nel dibattito pubblico in generale ma anche molto raramente entrano nel dibattito di quelli che come molti di noi qui presenti si interessano di proposte di riforme delle leggi e politiche sulle droghe perché l'Italia alle volte ha delle punte di lancia di militanza e attivismo altre volte invece sconta un po' o una distrazione o comunque un approccio culturale molto diverso e quindi noi abbiamo ritenuto importante importare alcune delle esperienze di maggiore successo non soltanto di maggiore approfondimento ma di maggiore successo che accadono nel mondo per fare quello che dice il sottotitolo del libro che si intitola è la dosa che fa il veleno che come tutti sappiamo è una frasetta che gira da 500 anni almeno nel mondo occidentale e il sottotitolo dice cosa manca all'Italia per un rinascimento psichedelico gli interventi sono di di Ralph Meciulam, Amanda Fielding, Rick Doblin, Ben Sessa, Carl Hart, José Carlos Bozo, Franz Follenweider, Thomas Palanicek e ci sono persone che hanno partecipato a questi incontri di cui parlavo prima e poi oltre a testi originali di Tania ci sono altri lavori di Vittorio Biancardi e Giuseppe Vitiello l'introduzione, la prefazione di Marco Cappato, l'introduzione è mia proprio per cercare di mettere insieme la parte culturale che ancora non ci caratterizza la parte di ricerca scientifica che purtroppo non ci caratterizza e la parte normativo politica che non deve caratterizzarci perché come noi sappiamo essendo queste sostanze sotto il controllo internazionale vengono in teoria controllate grazie a ciò che è previsto nelle convenzioni internazionali adottate dalle Nazioni Unite, ormai l'abbiamo imparato tutti a memoria nel 61, nel 71 e nell'88 questi tre documenti, i primi due di questi tre documenti furono adottati per promuovere l'accesso alle piante e ai derivati per uso medico che negli ultimi 3-4 mila anni avevano accompagnato l'esperienza umana ma che avevano iniziato diciamo all'indomani della seconda guerra mondiale, della fine della seconda guerra mondiale, se volessimo andare un po' più indietro all'inizio dell'ottocento, essere utilizzati anche come sorta di moneta di scambio o moneta parallela o un motivo di acquisizione di molti soldi grazie alla provvizione per finanziare spesso da parte dei governi che le proibivano attività illegali che il Parlamento non voleva ratificare ma che invece il governo voleva portare avanti ma non lo poteva fare perché non aveva il consenso del proprio potere legislativo. In particolare la convenzione del 61 divide in quattro tabelle le piante e i loro derivati e recupera piante tradizionalmente presenti nella farmacopea o nell'impiego terapeutico come il papavero, come la cannabis, come la foglia di coca ma anche i composti chimici che negli anni si erano andati a scoprire, a inventare, a comporre a partire dagli anni 20, 30, 40 e poi ancora 50 ma che anche essi erano entrati in circoli che non necessariamente erano sotto controllo medico scientifico. In parallelo a queste tre convenzioni la comunità internazionale ha negli anni stabilito quali dei diritti contenuti nella dichiarazione universale adottata alla fine della seconda guerra mondiale dovessero essere ulteriormente raffinati o codificati in altri documenti che si chiamano patti. Il primo raccoglie quelli relativi ai diritti civili e politici, il secondo quello ai diritti economici, sociali e culturali e noi abbiamo voluto cogliere in particolare il punto che maggiormente collega la parte economica con la parte culturale e quindi anche con la parte sociale e automaticamente quella politica che secondo noi era e rimane poco affrontato quando si parla di diritti umani e cioè la scienza. La scienza è un diritto umano riconosciuto a livello internazionale come avente diritto in quanto scienza ma potenziante o aprente possibilità di ulteriore impiego, attività per invece la comunità umana. Sono tre gli elementi di questo diritto alla scienza che ci interessano moltissimo quando si parla di droghe perché il proibizionismo sulle droghe è proprio il caso di scuola non soltanto della limitazione della libertà ma anche della limitazione della scienza. La prima parte del diritto alla scienza è la libertà di ricerca. Dovunque nel mondo, qualsiasi sia l'oggetto della ricerca, secondo il diritto internazionale non si possono porre limiti irragionevoli ma per certi versi anche limiti ragionevoli all'attività di ricerca. Ricerca non esclusivamente scientifica ma anche ricerca interiore, di coscienza, di limiti di se stesso e di sperimentazione a partire magari proprio da se stessi su questioni che chiaramente non recano danno a chi ci circonda, alla cosiddetta salute pubblica o anche alla comunità. Questo è il diritto della scienza. Il secondo elemento del diritto alla scienza è la condivisione della conoscenza frutto della ricerca. Non devono essere imposti ostacoli alla circolazione del prodotto della ricerca che siano economici, tecnologici o culturali, figuriamoci, dogmi religiosi, alla libera circolazione del prodotto della ricerca e quindi oggi si chiama open access alla scienza, open science e quindi il contenere quanto più possibile i diritti d'autore piuttosto che i brevetti su questioni che possono avere rilevanza universale. E collegato a questo c'è la terza parte, quella che veramente ci interessa maggiormente quando si parla in particolare di sostanze stupefacenti o di attivazione di un altro diritto internazionale che è quella della salute, cioè il diritto a godere del progresso scientifico e delle sue applicazioni. Allora noi mettiamo in relazione le norme delle convenzioni internazionali da una parte che limitano fortissimamente la produzione, lo studio e anche la circolazione di queste sostanze addirittura e ancora oggi lo ha ricordato, non mi ricordo forse la Lamorgese, anche la limitazione della circolazione dei precursori chimici che sono necessari per fare le droghe ma anche per fare il detersivo. Quindi noi abbiamo un sistema di controllo di queste cose che impiega talmente tanti soldi inutilmente perché è la dose che fa il veleno e quindi non c'è qualcosa che di per conto suo è velenoso, che distrae risorse infinite da attività che invece potrebbero aiutare chi ha vari tipi di bisogni. Abbiamo quindi messo insieme o comunque iniziato a suggerire la lettura critica delle convenzioni attraverso questo prisma dei diritti economici, sociali e culturali perché quando uno stato ratifica il patto internazionale per questi diritti e questo lo hanno veramente ratificato tutti, Cina compresa, li ingloba nel proprio sistema nazionale facendoli diventare principi e diritti della stessa importanza di quelli previsti nelle costituzioni dei paesi che ce l'hanno ma anche di quelli che non ce l'hanno. Quindi come è possibile che dopo tutti questi anni nessuno si sia mai messo in agenda di dire attenzione, noi abbiamo delle convenzioni da una parte che impongono, propongono, stabiliscono tutta una serie di controlli e che comunque col passare del tempo hanno violato tutta un'altra serie di diritti umani universalmente riconosciuti, molti ci hanno detto anche se ci avessimo pensato e comunque non ci ha pensato nessuno non ci sarebbe un tribunale o una corte internazionale dove portare questo tipo di contrasto. Ebbene da il 2012 esiste la possibilità di andare davanti a un comitato delle Nazioni Unite e presentare un caso di violazione individuale o collettiva di uno dei diritti contenuti nel patto sui diritti economici, sociali e culturali. L'Italia è stata tra i primi paesi a ratificarlo, dopo la ventesima ratifica questo comitato è entrato in funzione e chiunque oggi nel mondo gli può mandare una causa o comunque si chiami un'informazione relativamente a un diritto violato e quindi cercheremo di capire adesso come si può utilizzare questa quasi o non giurisdizione sulla base di un altro documento e qui concludo la mia introduzione un po' lunga e non necessariamente sexy per l'ora del giorno, questo documento che è stato adottato ad aprile del 2020 quindi veramente poco tempo fa, che è una sorta di interpretazione strutturata di un articolo che parla della scienza e che in 20 pagine dettaglia gli elementi del diritto alla scienza. Era in preparazione dal 2016 grazie a una serie di attività che da anni assieme anche a Forundrog e la società della ragione, MAPS o ICERS portiamo avanti alle Nazioni Unite gli esperti dell'ONU ci hanno chiesto secondo voi quale tema tra questi che abbiamo messo in lista non rientra nelle nostre preoccupazioni e noi in coro gli abbiamo detto le sostanze sotto controllo internazionale. Finalmente dopo lungo dibattere sono stati preparati dei paragrafi che parlano anche di questo e siamo arrivati ad avere nella versione finale di questo documento che si chiama commento generale numero 25 un paragrafo sulla cannabis e gli esperti dell'ONU hanno detto chiaramente che le leggi e le politiche che negli anni sono andate a proibire direttamente o indirettamente tutto ciò che ha a che fare con la cannabis senza specificare il tipo di ricerche che si fanno sono comunque da prendere in considerazione come un possibile violazione del diritto alla scienza. Avevamo preparato anche un altro paragrafo sugli psichedelici ma non è rientrato. L'altro paragrafo molto importante che secondo noi si applica a questo sì a 360 gradi su qualsiasi tipo di politica e legge sulla droga cioè sempre antidroga è quella relativa al cosiddetto principio di precauzione. Il principio di precauzione è quello per cui di fronte a un nuovo fenomeno, a una nuova attività o anche a un nuovo prodotto il legislatore si pone il problema di capire se questo possa essere nocivo alla salute umana, animale o all'ambiente ma quanti anni potrà mai durare questa precauzione per poter essere confermata per sempre o comunque in maniera strutturata e solidamente radicata nella legislazione di un paese? 5, 10, 15, siamo arrivati a 60 anni dall'adozione della prima risoluzione e abbiamo visto che tutti questi gran danni alla salute umana o animale o al pianeta che avrebbero potuto essere recati dall'uso non medico e scientifico delle droghe non ci sono stati. Anzi se possibile è stato documentato che il non averle rese possibili sotto un quadro regolamentare ha creato problemi alla salute umana, animale e anche all'ambiente, buonultime le fumigazioni che sono in Colombia e quindi anche lì si dice occorre aggiornare sulla base delle evidenze scientifiche le legislazioni nazionali perché altrimenti ancora una volta sia in violazione del diritto alla scienza articolo 15 del patto internazionale per i diritti economici, sociali e culturali. Allora noi come dicevamo anche alla presentazione di prima ci piace pubblicare dei libri per avere poi però una ricaduta politica che nel nostro caso sarà quella e con questo passo il microfono a Tania di cercare di creare le condizioni per cui anche in Italia si possa fare ricerca quindi il diritto della scienza possa vivere poi però piano piano oltre che far circolare le idee e i prodotti della ricerca bisogna arrivare alla parte finale di questo diritto che è godere dei benefici del progresso scientifico e delle sue applicazioni perché come ci dicono i ricercatori in questo libriccino negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Canada, in Repubblica Ceca e in Israele ci sono ormai talmente tante e tali evidenze scientifiche che funziona che molto probabilmente nel 2023 la Food and Drug Administration registrerà l'MDMA come una medicina vera e propria e quindi forse l'anno dopo lo farà anche l'EMA per la cura dello stress post-traumatico in piani terapeutici di psicoterapia e ultimo elemento fondamentale perché con la scoperta di questa variante Omicron dell'altro giorno è tornato anche di prepotente urgenza il dibattito sui brevetti dei vaccini MAPS che è la società che da anni segue questo processo e che arriverà a portare a casa questo risultato nel 2023 ha detto chiaramente che sarà la prima casa farmaceutica non a fini di lucro, cioè metterà a disposizione a prezzo di costo l'MDMA per chi chiaramente la somministrerà secondo i protocolli da loro previsti e i corsi per poter avere questo tipo di chiamiamola licenza, brevetto o contatto contratto con loro sono aperti a chi qualifica e vuole partecipare da tutto il mondo quindi come si diceva anche prima relativamente all'individualizzazione della necessità delle azioni e delle reazioni si sta creando un contesto per cui anche la grande o piccola la casa farmaceutica potrebbe essere nella sua struttura capitalistica sconvolta questo non vuol dire che non esistano già altre grosse case farmaceutiche che stiano lavorandoci e proprio sugli psicodellici c'è una che produce e investe miliardi e lo fa perché chiaramente pensa di poter avere un domani un ritorno ma le due strade sono parallele e non sono in competizione una con l'altra anzi se possibile una aiuta l'altra ad andare avanti anche questo è una cosa che chissà quando succede in Italia come spesso accade se uno non inizia poi non saprà appunto secondo l'approssimazione successiva non solo di avere intrapreso la strada giusta ma anche di vedere se ci saranno degli ostacoli o se ci saranno degli alleati noi speriamo di avere più alleati che ostacoli in un percorso che sicuramente sarà lungo e non facile da portare avanti Tania Bene, grazie Marco io entro un pochino più nel merito della questione terapeutica di formazione appunto io sono un'antropologa mi sono formata qui a Genova in particolare su una parte dell'antropologia che è l'antropologia medica o della salute non distante da dove abbiamo lavorato insieme ieri c'è un museo di etnomedicina che è un unicum e lo dico proprio qui in terra genovese che è stato creato e voluto da un medico che si chiama Antonio Scarpa che io ho conosciuto ormai in novantenne Scarpa è nato all'inizio del secolo scorso era un medico curioso e per cui ha avuto la possibilità per quasi due terzi della sua vita di viaggiare e dove ha viaggiato? parliamo insomma degli anni 50 del 900 quindi quando non era così facile viaggiare lui ha viaggiato in Oriente, in Centro America, in Sud America, in Africa e ha portato a Genova un corpus di conoscenze e di beni materiali e immateriali un reportage di fotografie di erbari la cosa che lo interessava di più maggiormente era giusto appunto come le diverse popolazioni nel corso della storia si sono prodigate per prevenire le malattie e per curarsi ebbene questo io l'ho conosciuto ormai ormai novantenne e riporto le sue parole che hanno aperto nel 1997 il primo corso di etnomedicina e di etnobotanica proprio qui a Genova in cui diceva che ogni sistema terapeutico ha pari dignità per cui le sostanze di cui parliamo e che Marco ha introdotto soprattutto le sostanze vegetali la cannabis ma parliamo anche dei funghi psilocibinici parliamo del peyote ebbene sono piante di cui io mi sono occupata oltre al libro che abbiamo preparato con Marco e con Guido ho scritto un librino il cui titolo è Stupefacenti e proibite le piante maestre ed è un libro molto molto semplice e che parte appunto un po' dalla mia storia antropologica io ho appunto dagli anni 90 ho lavorato con le comunità indigene ho cercato di portare avanti un po' il lavoro di scarpa soprattutto ho lavorato in Centro America e in Sud America e in Sud America in particolare in Bolivia la Bolivia come anche il Perù è un luogo famoso per quanto riguarda la coca ebbene la coca in Bolivia come ci ha ricordato il suo presidente e la mamma coca cioè la coca è una madre che cosa è successo nel corso della storia nel passaggio di queste piante nel viaggio dai luoghi dove sono nate e cresciute e di cui la loro cultura pensiamo adesso anche all'iboga che è un'altra pianta africana in Gabon è considerata un patrimonio nazionale così anche la coca l'ayahuasca in Perù ebbene quando la coca arriva in occidente e diventa cocaina a questo punto perde completamente il suo radicamento territoriale e diventa una droga e sapete che cosa succede oggi? che le persone lo racconto in questo librino in Perù c'è questo luogo che si chiama Takiwasi nel mezzo della foresta amazzonica dove le persone che in qualche modo hanno attraversato la parte più difficile più terribile della cocaina per cui diventano dipendenti ebbene tornano in Perù e c'è un'altra pianta anzi sono due per la verità che è l'ayahuasca che è un'altra pianta che qui in Italia è tabellata ebbene abbiamo anche degli studi scientifici che ci dicono che l'utilizzo dell'ayahuasca può essere estremamente utile per la disassofazione dalla cocaina dall'alcol e da altre sostanze pensate che giro dalla coca alla cocaina e le persone tornano là in quei luoghi proprio per trovare una nuova antica terapia ebbene allora un po' entrambi i libri vogliono portare sono dei libri che hanno un carattere dialogico molto semplice questo l'ho fatto leggere a mio zio che non che non ci capisce proprio niente nel senso che è una è una persona che non ha una competenza specifica e alla fine lui prima di pubblicarlo mi ha detto beh sai è un libro utile perché anche le persone come me che in qualche modo hanno ancora quell'idea di cui si diceva prima della musica degli anni 50 e 60 possiamo avere delle informazioni e soprattutto l'obiettivo è quello di partendo dalla storia e dall'antropologia arrivare a quelle che oggi sono delle ricerche che vengono fatte in laboratorio ma anche in clinica in ospedale parlo dell'Inghilterra del Praga sono tutte le persone che in qualche modo abbiamo invitato e che sono gli autori di questo libro in qualche modo siamo diventati non solo colleghi ma anche amici e l'amicizia voleva e vuole in qualche modo far sì che anche in Italia partendo dalle ricerche che ahimè ancora non sono fatte qui ma sono fatte in altri paesi possano portare beneficio alle persone soprattutto alle persone malate il fatto che il trattamento del dello stress post-traumatico in paesi come come diceva Marco prima negli Stati Uniti abbiamo delle ricerche ormai siamo alla fase 3 della ricerca sull'MDMA l'MDMA ovviamente non è una sostanza naturale è una sostanza chimica ma questo io credo dobbiamo anche andare un po' oltre al naturale buono sintetico cattivo sono entrambi chiaramente ciascuna delle due parti ha dei pro e dei contro diciamo le sostanze naturali hanno il pro di avere la complessità pensiamo alla cannabis la complessità dei cannabinoidi che troviamo all'interno è un caleidoscopio e stiamo andando avanti non solo il THC il CBD ormai questa pluralità una sostanza chimica non ce l'ha l'MDMA è una sostanza pura qual è il suo vantaggio il vantaggio è che in ambito di ricerca sia molto più facile e molto più facile avendo una dose puntuale determinata ad esempio per il peso della persona che l'assume ebbene il fatto di in questo momento in Italia non abbiamo una ricerca clinica con nessuna di queste sostanze queste sostanze sono tutte sostanze a parte la cannabis ma le altre sono tutte sostanze ancora in tabella numero 2 per cui la loro detenzione sappiamo bene quali sono i rischi ma forse non sappiamo o forse non tutti sanno quali possono essere i benefici vi voglio leggere perché credo sia importante dare voce anche alle storie delle persone e soprattutto delle persone malate io oltre ad essere un'antropologa sono una psicologa e sono una psicoterapeuta quindi in questo in questo anno come molti colleghi abbiamo abbiamo vissuto con con quello che il la segregazione il le costrizioni hanno hanno portato e con Marco ci siamo interrogati l'anno l'anno scorso dicendo beh quale potrebbe essere la situazione se potessimo utilizzare ad esempio l'MDMA allora forse e vi dico è ricerca di oggi proprio sull'MDMA cioè ricerca di oggi nel senso che è stata pubblicata quando parlo di ricerche pubblicate sono ricerche pubblicate in riviste scientifiche quindi che hanno tutti i crismi del del metodo scientifico ebbene si è evidenziato che l'efficacia dell'MDMA è molto maggiore in quelle persone che non hanno mai assunto altre sostanze altri psicofarmaci e su questo senza fare l'elenco quindi forse sapete bene che la la ricerca clinica si dice che ad esempio l'MDMA è andata la prima ricerca è sul post traumatic stress disorder perché o disturbo da stress post-traumatico perché non ha un farmaco capace di alleviare o di curare questa problematica che fa riferimento alla salute mentale ebbene questo studio pubblicato oggi ci dice che queste sostanze queste sostanze psicoattive psichedelici che sempre che dobbiamo ancora studiare nonostante abbiano 3000 anni di storia perché se andiamo a vedere l'etnobotanica vediamo che non sono il loro utilizzo medico e terapeutico non è così nuovo anzi è molto antico è come se tutti gli anni del proibizionismo hanno completamente azzerato e annullato la ricerca e quindi siamo a proposito di diritto alla scienza noi siamo stati privati della possibilità di curarci con queste sostanze e oggi si evidenzia quanto l'utilizzo di queste sostanze se uno ha già 10, 20, 30 anni di utilizzo di psicofarmaci la loro efficacia diminuisce allora un po' è qual è il vero la vera sostanza che dovremmo scegliere come si dice qual è la prima scelta per per queste per queste patologie vi leggo solo una perché mi piacciono le storie e credo che come diceva qualcuno noi esseri umani siamo fatti di storie ed è la storia di Francesco giusto appunto che è un ragazzo italiano che si è trasferito negli Stati Uniti e racconta un po' la sua storia relativa a questo disturbo post-traumatico e al trattamento ricevuto negli Stati Uniti grazie a MAPS il cui presidente che Eric Doblin è uno degli autori di questo libro i nomi sono come potete immaginare di fantasia ma la storia è vera e la riporto virgolettata così come mi è stata raccontata da Francesco mia moglie ed io ci siamo conosciuti nell'ottobre del 2014 quando lei si stava per trasferire a San Francisco per lavoro io già vivevo in quella città da qualche anno Serena è entrata nella mia vita durante un periodo psicologicamente molto difficile per me quando già da diversi mesi avevo iniziato a soffrire di un disturbo d'ansia generalizzato con alcuni attacchi di panico il problema era legato a uno shock del mio passato quando avevo 19 anni mia madre si suicidò con un cocktail letale ed io che ero in casa la vidi morire senza poterla aiutare questo evento fu fortemente traumatizzante nel 2014 a 10 anni di distanza da quell'evento avevo ancora tanta strada da fare nel mio percorso di guarigione già all'inizio della mia relazione con Serena le avevo parlato di questo aspetto del mio passato l'ansia legata al trauma i farmaci e ora si aggiungeva l'ansia di perdere anche lei avevo paura che una volta conosciutomi meglio e resasi conto di quanto fossi fragile le sarebbe passata la voglia di stare con me a quel tempo una mia cara amica che opera nel settore della salute mentale negli Stati Uniti in California mi aveva raccontato dell'esistenza di un network di terapeuti underground che trattavano i propri pazienti con terapia assistita con sostanze psichedeliche avendo già provato diversi altri tipi di terapie senza ottenere dei risultati decisi di fare un ultimo disperato tentativo mi presentarono a uno psicologo certificato con una pluriennale esperienza nel trattare i pazienti con la psilocibina contenuta nei funghi e con l'MDMA meglio conosciuta come ecstasy quando mi recai da lui la prima cosa che mi colpì fu la sua empatia mi accolse con un abbraccio non c'era la solita distanza che si percepisce con molti altri terapeuti che avevo incontrato mi fece subito sentire a mio agio il suo studio in una bellissima costruzione di legno dentro un parco era redato con grandi cuscini disposti su un tappeto su cui ci si poteva comodamente sdraiare un caminetto piccolo rendeva l'ambiente tiepido e confortevole diversamente dagli altri terapeuti A operava in modo completamente diverso le prime sessioni furono normali ossia in assenza di sostanze e servirono per conoscerci meglio non vi era solo un dialogo tra noi due ma anche momenti strutturati di meditazione guidata ed esercizi di respirazione quando nei momenti difficili quando dovevo raccontare del mio trauma A aveva uno sguardo incoraggiante al momento giusto mi teneva la mano e anche mi abbracciava altro che distanza terapeutica tutto questo mi aiutò ad avere una profonda fiducia in lui dopo aver lavorato individualmente arriviamo alla conclusione di includere Serena in questo percorso si unì a noi con molto entusiasmo ed iniziamo a prepararci per una terapia congiunta assistita con MDMA un sabato un sabato poi continua e ovviamente l'epilogo è un epilogo positivo per entrambi questa esperienza è stata una delle più importanti della nostra relazione ci piace dire che ha elevato il nostro rapporto e sbloccato nove aspetti del nostro rapporto che a loro volta hanno avuto un impatto straordinario sul nostro futuro comune oggi Serena e io siamo sposati viviamo felici a San Francisco e aggiungo e nel frattempo hanno avuto un bellissimo bambino vi ho raccontato questa storia perché sono un po' queste queste storie che guidano un po' il lavorare anche un po' controcorrente nel senso che a livello accademico occuparsi di queste sostanze per qualcuno per alcuni nostri colleghi psicoterapeuti psicologi ritengono che è materia difficile anzi è un po' materia scottante perché può pregiudicare una carriera universitaria io credo che più delle carriere ma questo è un mio sentire continuo le storie delle persone e se siamo qui abbiamo scelto personalmente l'ambito terapeutico è proprio quello di assistere le persone sofferenti quindi c'è un'altra bellissima storia magari se c'è tempo ve la accenno dopo con la cannabis ma credo che davvero la presenza di Walter qui oggi sia un esempio davvero importante per tutti ripasso la parola Marco ci avviamo alla conclusione perché siamo andati un po' lunghi ma era il minimo che si potesse fare io ho dato per scontato che si sappia che cosa sia da dove venga la sola dosis facit venenum che è l'antico adaso attribuito a Theos Fratus von Örhenheim meglio noto come Paracelso pioniere della rivoluzione della medicina laureato tra l'altro all'università di Ferrara quindi credo che dovremo in qualche modo recuperare anche questa notorietà alla città dove si è dove studiò noto anche per aver battezzato lo zinco chiamandolo zincum e viene considerato il primo botanico sistematico tutto è veleno nulla esiste di non velenoso solo la dose fa in modo che il veleno non faccia effetto una sostanza può produrre l'effetto dannoso associato alle sue proprietà tossiche solo se raggiunge un sistema biologico sensibile all'interno del corpo in una concentrazione sufficientemente elevata e qui poi noi diciamo nel momento in cui si parla di rinascimento psichedelico recuperarne la pienezza intellettuale potrebbe aiutarci a riscoprire quella che oggi va sotto il nome di multidisciplinarietà ma che noi chiamiamo cultura ciao Walter buon riposo e a domattina ripassa ritorna bene allora ci vediamo tra un po' bene bene giusto non si può fumare al chiuso e quindi tutti usciamo le ultime due cose perché siamo veramente arrivati in chiusura Tania ha promesso e qui ora dovrà confermare la promessa di trasformare questo suo libro in dei podcast che speriamo da dicembre possano essere distribuiti gratuitamente dalle piattaforme dell'associazione Luca Coscioni nel frattempo potete cercare su Google se siete a casa è la dose che fa il veleno che da ieri è su tutti i siti se siete qui al tavolo in fondo a prezzo stracciatissimo viene venduto e se ne regala anche un altro che è stato citato poco fa cioè la cannabis fa bene alla politica e sempre sia da qui che da casa cercate illuminismo psichedelico che sono ormai 25 episodi curati e gestiti da Federico Di Vita che l'anno scorso ha dato alle stampe per Quadlibet la scommesa psichedelica che affrontano tutti gli aspetti degli psichedelici per quanto riguarda l'Italia ancora di auspicio per quanto riguarda il resto del mondo di investimenti in risorse e in ricerche ormai in atto perché da qualche parte si doveva partire iniziamo dalla parte culturale e poi il resto sicuramente verrà non so quanto dura la tua storia della cannabis se dura due minuti c'hai tempo di raccontarla direi di no bene allora grazie ancora per l'ospitalità e prendiamo anche noi una boccata d'aria e poi si prosegue alle ore 18 parlando di cannabis grazie a un incontro promosso da Sinistra Italiana c'è anche Nicola Fratoianni che ci ha raggiunto segretario c'è anche Farina dove è andato è lì con le mascherine e quando siamo tutti un po' spelacchiati siamo tutti uguali che è stato relatore nella scorsa legislatura di un insieme di proposte di legge per la legalizzazione della cannabis Sinistra Italiana che è anche uno ecco di là dei partiti che ha sostenuto fin da subito il referendum cannabis legale quindi grazie anche al loro sostegno siamo arrivati neanche una settimana alle prime 500.000 firme le abbiamo consegnate il 28 di ottobre in Cassazione a questo punto io farei una scommessa con Leonardo Fiorentini cioè lui ritiene che domani scadano i 30 giorni per cui la Cassazione se non ha detto nulla più o meno è andata bene no? ecco o arriva lunedì eh? no non devi toccare niente io secondo me arriverà dopo diciamo il trentesimo giorno ecco la scommessa la faccio un po' a ribasso ma la faccio volentieri 10 euro al grammo buonasera a tutti a più tardi grazie a tutti per tutti non ce sembra che Grazie.